Tutto è pronto per il grande giorno. Manca solo... Non ci abbiamo la casa. Andate a stare nella casa dove stiamo adesso. Ma sei pazzita? Ci farà bene cambiare. 750 euro mensili. La prendiamo. Oh, ma che prendiamo? Casa nuova, vita nuova. Benvenuto tra noi. Sono sicuro che vi troverete benissimo. Chi siete? Si fa ciliei bravo e non si fa male a nessuno. T'hanno fatta l'accoppatura, ropè. È una pratica molto diffusa nell'ambito criminale. Minca non si è mai venuto. Devi fare tutto quello che ti dicono. Ci stanno controllando, Marisa. Nessuno! Oddio, se entra, vede i pacchi. Sono preoccupata, papà. È mamma che mi risponde assento al telefono. A casa nuova non mi fate venire. Ma non è che vi state lasciando? Lasciando. Buonasera. Da quando in qua? Un marito e una moglie non si possono appartare un momento in intimità. Hai parlato dei pacchi con il Peppone Madalino? Mi hanno un pistola, no? Buonasera. Se ti posso dare un consiglio d'amico, scappa. Dobbiamo rilanciare. Ma sei impazzita? È se merda! Togliamo tutto da me! Oh! Che potta! Qui spazzite! Perchetto? nous volvons!